ciao giorni felici roma che è il mio bnb poi metto i link ovviamente bonifici eccetera maria beatrice alonzi qui dietro di me la digital artist italiana c'è non romana italiana attenzione io ho visto varie cose rimbalzare sul web però poi sono contento di averti conosciuto adesso perché adesso ci racconti in pochi in pochi secondi alla fine il tuo progetto mbl e poi anche quello che ti va l mbl è il maria beatrice live e consta di una trasmissione esattamente come sono fatte le trasmissioni televisive quindi con la regia il cambio camera e gli ospiti è un talk show fatto all'interno della cornice dell'hard rock caffè di roma in questa sua prima stagione via veneto in via veneto il mercoledì mattina quindi abbiamo avuto amanda sandrelli gli stag adesso avremo massimiliano bruno ma abbiamo avuto massimiliano vado eccetera eccetera ed è un modo di unire le mie due cose preferite la super tecnologia quindi io utilizzo una telecamera particolare con la quale io stessa faccio regia e la televisione dei primissimi tempi quindi il talk show ecco questo è l'embl prossimo appuntamento mbl 7 giugno massimiliano bruno ore 11 dal mio profilo facebook che è facile perché facebook.com slash lo dice bea lo dice bea poi metto i link lì senti una domanda tecnica ti faccio perché c'è stata l'esplosione dei video anche io faccio dei video faccio delle dirette dai festival eccetera io ho notato un crollo delle visualizzazioni nell'ultimo periodo tu l'hai riscontrato dacci una chicca per per ovviare via gratis diciamo che quando tu fai un contenuto video dovrebbe essere un contenuto video senza l'interazione se fai una diretta la diretta deve essere interattiva se tu vai in diretta riprendendo qualcosa che in realtà io potrei vedere anche su youtube e non ascolti o leggi i commenti degli utenti e non interagisci con loro in realtà gli utenti si stufano per questo le dirette vanno fatte interattive creando l'engagement famoso engagement e quello dico io da anni ringrazio tu l'hai detto te perché nei teatri ancora fanno le dirette e le conferenze stampa che non servono a niente in questo modo il tuo ospite vero è lo spettatore quello che da casa ti guarda o da casa o da dovunque si trovi e si prende la briga di commentarti quindi non ascoltarlo fantastico cara ti ringrazio molto metto il link ci vediamo presto ciao